ad aurora è stata diagnosticata una sindrome rara definita ultra rara dal nome acrodisostosi tipo 1 ormone resistente questa sindrome praticamente purtroppo costituisce una malformazione più malformazioni a livello scheletrico e procura anche una rigidità articolare queste malformazioni sono costituite da esempio delle scogliosi molto accentuate e deformative lunghezza degli arti inferiori differenti e una caratteristica principale di questa sindrome sono anche le mani e i piedi tozzi aurora avendo la tipo 1 perché la acrodisostosi esiste sia di tipo 1 che di tipo 2 essendo di tipo 1 è ormone resistente appunto deve assumere quotidianamente dei farmaci per portare a giusto livello gli ormoni e di cui c'è carenza allora aurora è nata prematura e già dalla morfologia del suo viso e i medici e avevano diagnosticato che molto probabilmente è era affetta da una sindrome da allora da ben 14 anni quasi 15 anni fa si sono continuamente fatti studi genetici ed esami genetici per capire appunto quale sindrome potesse avere e appunto tre anni fa grazie al al reparto l'ambulatorio di auxologia e genetica degli ospedali civili di brescia capitanati dalla dolcissima dolcissima dottoressa pilota alba che segue aurora da quando è nata e hanno potuto e hanno capito tramite delle radiografie della mano di aurora e tramite appunto degli esami genetici e che era acrodisostosi è stata mirata dopo tantissimi tentativi la l'esame su questa malattia ed è risultata momentaneamente siamo solo noi noi è da circa due anni siamo in contatto con un'associazione inglese allora inizialmente è stata fondata da una mamma australiana ma poi la sede è stata portata a londra che è costituita da famiglie che hanno bimbi figli o ragazzi comunque perché il più grande 29 anni e che hanno la stessa sindrome di aurora o di tipo 2 e io a forza di scusatemi il termine smanettare in internet per cercare qualcuno che avesse sindrome come aurora perché comunque è molto alienante sapere di essere i soli perché non sai con chi confrontarti e non sai chi chiedere aiuto e ho trovato questa associazione mi hanno inserito in questo gruppo privato perché un gruppo privato di facebook dove praticamente ci scambiamo e i consigli ci supportiamo vicenda anche a livello medico ognuno di noi racconta la propria esperienza però nel mio intimo gradirei molto conoscere altre famiglie qui in italia per poter condividere nella mia lingua che è molto più semplice ma anche soprattutto a livello medico poterci confrontare anche su dove vai tu per questo problema cosa ti hanno consigliato e comunque magari avere la possibilità anche di contrari far incontrare i bambini anche perché nell'associazione inglese la maggior parte dei casi sono in inghilterra in america in australia e risulterebbe in italia come italiana sono iscritta solamente io e so che qua nel nord italia per ora sono l'unico caso so che risultano un'ottantina di casi nel mondo nell'associazione di cui faccio parte adesso questa inglese siamo una settantina di famiglie dunque all'appello ne mancherebbero ancora dieci e come ripeto 70 famiglie concentrate principalmente in inghilterra in america e in australia anche se ci sono dei casi in argentina in germania e in francia e mi sembra uno in spagna se qualcuno mi sta ascoltando e ha figli parenti che sono affetti da acrodisostosi sia tipo 1 che tipo 2 se vogliono mettersi in contatto con me e ne sarei grata soprattutto appunto per avere un supporto ma anche solo per fare due chiacchiere e scambiarci dei consigli un mio grandissimo desiderio sarebbe poter un indomani e formare un vero proprio gruppo italiano e che possa magari collaborare con quello inglese infatti colgo l'occasione per dire che il primo di dicembre in collaborazione appunto con questa associazione e abbiamo fatto partire una gara di solidarietà una raccolta fondi perché il in inghilterra londra il great ormond street hospital di londra ha promesso che se noi famiglie avessimo saremo riusciti a raccogliere il 25 per cento della somma totale che occorre per iniziare la ricerca sull'acrodisostosi e ci avrebbe garantito la riuscita scegliendo tra tre ricercatori che si sono praticamente offerti e messi a disposizione per appunto iniziare la ricerca su questa malattia nel tentativo nella speranza di poter trovare una cura definitiva o almeno una cura che possa aiutare i nostri figli a stare meglio perché comunque non è una sindrome leggera chiamiamola così ma implica molti limiti molti stati dolorosi e dunque sarebbe buona cosa trovare una cura infatti la raccolta fondi è stata realizzata e concretizzata grazie a tutte noi 70 famiglie nei vari angoli del mondo e infatti siamo riusciti a realizzare un bottino di 72 mila e 100 sterline a fronte dei 62 mila e 500 che dovevamo realizzare per dare il via alla ricerca allora diciamo che è impegnativa nel senso che è aurora oltre ad avere problemi fisici e questo anche tutti gli altri bambini hanno comunque dei ritardi anche psicomotori e cognitivi a livello scolastico aurora io parlo per aurora ma ho potuto confrontare anche con gli altri genitori e viene sempre stata seguita viene tuttora seguita da un insegnante di sostegno ed un assistente alla persona per quanto riguarda nella vita normale non è autosufficiente dunque ha sempre bisogno di aiuto sia per quanto riguarda il vestirsi la lacciare le scarpe e alcune volte anche per alimentarsi nel senso che devo tagliare la bistecca e nella cura della persona e a livello invece per quanto riguarda è personale e deve essere sottoposta e costantemente a delle sedute di fisioterapia per permettere appunto è alle articolazioni di mantenere sempre la loro funzionalità e comunque qualsiasi stimolo viene tipo la musicoterapia o anche l'abbiamo portata anche a fare pet therapy tutto ciò che possa stimolarla anche a livello celebrale comunque è tutto buono nel senso è comunque deve essere costantemente mantenuto un impegno sia a livello intellettivo e sia a livello fisico per mantenere comunque sempre agile nei movimenti e per quanto riguarda invece l'aspetto medico aurora bene ne ha superate parecchie ma veramente veramente tante tra cui è stata in dialisi e ha fronteggiato con una meningite batterica e due trombosi celebrali dovute alle tube molto strette auricolari ha dovuto subire tre interventi alle orecchie e oltretutto adesso a causa di questi interventi purtroppo ha una modesta sordità deve seguire costantemente dei follow up in ospedale con degli esami dei controlli mirati e ha oltretutto delle allergie alimentari dunque ha un'alimentazione limitata e deve essere controllata anche dalla neuropsichiatra ogni totale anche soprattutto per quanto riguarda l'aspetto scolastico per programmare i vari percorsi di studio e basta cioè è seguita da tanti su tanti fronti non solo quello genetico ma dall'auxologico all'allergologo al dermatologico perché comunque questa sindrome porta anche dei problemi a livello di cute a livello ortopedico a livello fisiatrico e fisioterapeutico insomma ha un bel po da fare allora a tutti coloro che mi stanno sentendo che hanno figli parenti o conoscenti con acrodisostosi e vogliono condividere con me questa grande avventura la vi prego contattatemi io ho fatto un account google acrodisostosi.itachiocciolagmail.com dove potete contattarmi preferisco prima via email e poi eventualmente ci scambiamo numeri di telefono o quant'altro chiedo una cortesia che sia persone cioè serie scusate se dico questo ma purtroppo ho avuto un episodio spiacevole e dunque ecco non perdi tempo diciamo così voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla raccolta fondi devo dire che io e mio marito siamo rimasti veramente basiti posso usare questo termine e commossi infatti abbiamo letteralmente pianto da quanta solidarietà e da quanto amore lungo quei giorni abbiamo raccolto vorrei ringraziare veramente di cuore tutti ma tutti indistintamente dalle associazioni alle singole persone che mi hanno anche bussato e suonato il campanello per dare la loro offerta a sostegno di questa ricerca è stato un messaggio molto forte e molto apprezzato mi piacerebbe utilizzare a posto di un semplice grazie se mi permettete è una parola a me molto cara che è namaste perché in indiano namaste al di là di un ringraziamento vuol dire letteralmente incontrare l'anima di colui che incontri e io e mio marito e la mia bambina in quei giorni veramente abbiamo incontrato le anime di tutte queste persone e li abbiamo sentite veramente veramente vicino un abbraccio caldo è un abbraccio veramente grande e pieno d'amore voglio ringraziare fabrizio vertua che ha creduto tantissimo in noi e ha pubblicato il primo che ha pubblicato l'articolo su briscia oggi dandoci questa grande possibilità e visibilità voglio ringraziare di cuore ma veramente tantissimo silvia mazzetti che mi ha guidato mi ha supportato mi accompagnato dai primissimi messaggi delle prime conferenze fatte online con l'associazione inglese e mi sta aiutando tutt'oggi ed è una persona splendida voglio ringraziare la scuola di aurora e la preside perché è c'è stata vicino e voglio ringraziare veramente tutti 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 e voglio ringraziare tantissimo anche voi di radio bruno perché mi state dando una grandissima occasione soprattutto è di far arrivare il mio messaggio nella speranza che qualcuno mi risponda per poter creare una rete tra di noi affetti mi ci metto anch'io da acrodisostosi